Ciao, Bonnie! Oh, che bel fiore! Sì! È un fiore di luna! Dicono che portano fortuna, ma io penso che siano solo leggende. Vado a prendere l'acqua, torno subito! Vediamo. A-Chiù! 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 Oh, no! E ora come smetto di essere invisibile? Ho bisogno di aiuto! Sono qui! Oh, ma dove sei andato, Boo? Spero che non mi spaventi! Mmm, è ora di qualche scherzetto. Uuuu! Wow, sei sempre più brava, Lupe! Sono sicura che sarai ammessa alla Terrific Academy! Speriamo! Che cosa è stato? Che c'è lì! Sono lo spirito della villa, Boo! Ah! Adoro essere un fantasma! Che fame che ho! Mangiamo qualcosa! Bonnie, smetti di muovere lo scheletro per far levitare le cose! Con il cibo non si scherza! Lily, io non sto facendo nulla! E allora chi? Aiuto! Lily si è rotta! Meglio che me ne vada! Ottimo! Ho tutti gli ingredienti per la pozione curativa! Bava di lumaca, lacrime di troll... Diamo inizio allo spettacolo! E infine il nettare dei fiori carnivori! Ma cosa? Scintille stellari? Ma come è arrivata qui questa bottiglia? Questi scherzetti sono un ottimo esercizio per me! Ehi, sono io! Dovremmo fare a meno di bu! Non preoccupatevi, sicuramente troveremo presto un nuovo membro del club! Nuovo membro? Che ne dite di uno zombie? Oh sì, mi piace! No, basta! Non ero scomparso! Ero solo diventato invisibile! Lo sapevo! Dietro questi scherzi c'era Boo! Perché non vuoi che si vediamo? Perché non so come fare! Sono scomparso quando hanno usato il fiore di Bonnie e ho starnutito! Perché non starnutisci di nuovo? Acciu! Non funziona! Questo perché deve essere un vero starnuto! Che ne dici di annusarlo di nuovo? Acciu! Sì, ha funzionato! Oh, hai appena scoperto come dominare il tuo potere! E anche che sei allergico ai fiori! Ah! Che ne dici! Grazie a tutti.